Non ho soldi per mandare mio figlio a scuola. È una frase che gela quella di Maria, la chiamiamo così la giovane mamma in rappresentanza di tutte, che questa mattina era in fila davanti alle porte degli uffici del gruppo dell'Udc al comune di Pescara. Voi pensate che una famiglia di due o tre persone che fanno ad esempio superiori, che vivevano con reddi di cittadinanza e che avrebbero comprate libri con reddi di cittadinanza, oggi si trovano in una forte difficoltà. Ricevo decine di segnalazioni di persone che vengono disperate, che ai primi di settembre, fra qualche giorno, qualche settimana, ricominceranno l'anno scolastico e non sanno che santo rivolgersi per l'acquisto dei libri. Come sempre c'è la Santa Caritas, a cui io chiamo e li ringrazio pubblicamente, perché nel limite del possibile loro praticamente comprano i libri necessari per andare a scuola, però poi con l'impegno che non appena esce il bando per rimborso libri ovviamente delle comuni di Pescara, ma che emana la regione qui su tutto il territorio regionale, ovviamente le persone ridanno i soldi che la Caritas ha anticipato per loro per far scuola i libri. E se di rincari si parla bisogna pure far chiarezza su quel 4% stimato dall'Associazione Italiana Editori. Nel complesso la spesa totale, ad esempio, per una famiglia con uno studente in prima media era di 284 euro tre anni fa, 293 lo scorso anno e arriva a 301 nel 2023. In una prima liceo si passa invece dai 367.7 euro del 2021 ai 381 di quest'anno. Le scuole sono tenute a adottare i libri, quindi fare la scelta dei libri di testo, considerando naturalmente dei tetti di spesa che non possono essere superati. Si può derogare solamente per il 10% in situazioni motivate e comunque deliberate dal Consiglio d'Istituto. Questi tetti di spesa sono fermi al 2013, quindi non sono stati incrementati dal Ministero. Quindi possiamo dire che per quanto riguarda l'aspetto che attiene alle competenze della scuola, le scuole effettivamente nel corso degli anni hanno incontrato e continuano a incontrare anche delle difficoltà perché a fronte di tetti di spesa che non possono essere superati e rimangono costanti nel tempo notano che comunque ci sono degli incrementi del prezzo di copertina dei libri di testo, però comunque questi limiti non vengono superati. Grazie. Grazie.